Presidente, il 20 a Bruxelles sarà presentato un portale su Pinocchio, di cosa si tratta? Si tratta di un progetto fatto con il deputato europeo Silvia Costa, che ha voluto realizzare una strada della fiaba europea, quindi con gli amici di Pinocchio e Pinocchio. Ci sarà il 20 un'iniziativa con tutti i paesi europei, proprio a Bruxelles, proprio nel Salone delle Feste del Consiglio d'Europa, e verrà presentato un portale virtuale di Pinocchio, virtuale Pinocchio, che permetterà, voglio dire, di entrare in questo portale e sostanzialmente girare il mondo di Pinocchio, il parco di collodi, pesce, cioè tutto quello che ruota intorno a Pinocchio nel nostro territorio. Io risengo che sia importante per valorizzare la figura di Pinocchio, sia importante per rilanciare il progetto collodi di Pinocchio, che per noi è fondamentale. Terzo, ricordo che Pinocchio, ormai ufficiale, è diventato l'ambasciatore dei prodotti toscani nel mondo al prossimo Expo del 2015. Quindi questo burrattino conosciuto in tutto il mondo, che è nostro, nostro intendo toscano, di collodi e di pesce, diventa veramente uno strumento di lancio dei nostri territori, di tutta la Toscana, e per questo che essere a Bruxelles in Europa è una cosa importante, quindi è un primo passo in un 2015 che deve rilanciare i nostri territori.